Un detenuto si è suicidato poco dopo la mezzanotte nel carcere di Santa Maria Capuavete, relegandosi alle inferriate della finestra della cella dove si trovava ristretto. A nulla sono valsi i soccorsi della Polizia Penitenziaria e dei sanitari. Da quanto si apprende, si tratterebbe di un ristretto del circuito di alta sicurezza. A commentare la notizia è Gennarino De Fazio, segretario generale della UIPA Polizia Penitenziaria. Si tratta del quindicesimo suicidio di un detenuto nel corso dell'anno 84 nel 2022, a cui si aggiunge anche un appartenente al corpo di polizia penitenziaria, che qualche settimana fa si è tolto la vita sempre in Campania, in quella che continua a presentarsi come una vera e propria carneficina. Sovraffollamento detentivo, deficienze organizzative, strumentazioni e tecnologie inadeguate, organici, carenti per tutte le figure professionali, solo alla Polizia Penitenziaria mancano circa 18.000 unità, ammettendo così a repentaglio la sicurezza di reclusi operatori.